Un evento inconsueto e quasi come una scena da film, ieri nel carcere di Salerno un agente della penitenziaria è stato perquisito per possesso di droga. Sono stati momenti di alta tensione, poiché l'individuo sospettato ha minacciato con una pistola i suoi colleghi ed è scappato. Attualmente in arresto, poiché nonostante abbia tentato la fuga, non è riuscito ad andare molto lontano grazie all'intervento della Guardia di Finanza. A dare il via alle indagini sono state la direttrice dell'istituto e la comandante della polizia penitenziaria, la quale ha mandato il nucleo investigativo con i cani antidroga per confermare i sospetti che persistevano sulla gente. L'uomo poi, in quanto colpevole, ha dato segni di insofferenza dall'inizio delle ricerche, fino a quando è stato beccato nel suo ufficio con buste schermate e 150 grammi di hashish. La scena definita raccapricciante è avvenuta davanti agli occhi dei carcerati che sapevano del giro di droga tra le mure del penitenziario. Inoltre, gli uomini della Guardia di Finanza hanno dovuto gettarsi addosso al fuggitivo perché, quando si è sentito braccato, ha iniziato a sparare per difendersi, rischiando di mettere a repentaglio la vita di qualcuno. I sindagati hanno commentato questo episodio come un'offesa per tutti i colleghi che lavorano con grande dedizione e correttezza tra le mille difficoltà.